Dedicato a tutte le persone che lavorano per la Fondazione Medicina Misura di Donna, degli estratti di un concerto con Emanuele Sartoris al pianoforte, Alberto Varado all'armonica, Michele Anelli al contrabbasso e Antonio Stiziolli alla batteria e la partecipazione di Giulia Firpo alla voce. Un saluto a tutti e un grande augurio di pronta guarigione per tutte le persone che in questo momento sono in ospedale. A presto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.